90 giorni. Questo è il termine indicato dalla holding indiana che vuole realizzare un aeroporto nella Valle del Mela. L'iniziativa è seria e adesso, dopo che sono state manifestate le intenzioni di realizzare quello che è un sogno per la provincia di Messina, la parola passa alla classe politica. Deputati e senatori, a differenza di quanto dichiarato dal presidente dell'Enac Vito Riggio, sembrano tutti d'accordo, ma ora bisogna andare oltre le parole e bisogna far presto. Tre mesi. Ci voglio credere, però da qui a dire che si farà l'aeroporto dobbiamo essere un po' prudenti. Stiamo lavorando, c'è un'interlocuzione seria e di concreto c'è che c'è per la prima volta un gruppo indiano, una holding indiana importantissima, abbiamo fatto tutte le verifiche, un gruppo serio che mette sul piatto tantissimi soldi per la realizzazione dell'aeroporto e non soltanto, è un gruppo importante che adesso si scontrerà con la burocrazia italiana, anzi, ancora di più siciliana. C'è la volontà politica. Ieri abbiamo fatto un incontro col presidente della regione che ha dato massima disponibilità e addirittura si è parlato anche della firma di un protocollo d'intesa che è la fase iniziale per avere un avvio di un'interlocuzione seria da qui a metà febbraio. Di contro possiamo anche dire che il gruppo, che è un gruppo serio, lo ripeto ancora, ci tengo a evidenziarlo, ha detto che se entro 90 giorni non avranno risposte, quindi da qui a tre mesi, loro andranno via e andranno altrove. È un aeroporto commerciale. Bisogna capire, visto anche la nota tecnica dell'Enac, di Riggio che ha espresso un parere tendenzialmente negativo, se facendo un aeroporto di terzo livello un po' più piccolo, come si è fatto in altre parti d'Italia, il gruppo è sempre interessato.